A Ponte Cagnano-Faiano la politica si muove per le prossime amministrative. Se il centro-sinistra sta già facendo quadrato intorno al sindaco uscente Giuseppe Lanzara, dunque già candidato, il centro-destra sembra non riuscire a trovare il bandolo della matassa. I partiti di quell'area politica, cioè Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc, Noi Moderati, Lega e Popolo della Famiglia, si sono seduti intorno ad un tavolo con le civiche Città Pubblica, Amare, Città Protagonista e Movimento Libero, raggruppati sotto Giuseppe Bisogno. Le parti hanno ritenuto positivo il confronto e si incontreranno nei prossimi giorni, quando verosimilmente si scioglierà la riserva sul percorso che il centro-destra vorrà intraprendere, scegliendo tra un percorso condiviso con Bisogno e, di conseguenza, rinunciando ai simboli di partito per presentarsi da civici o con un proprio candidato sindaco. Al momento la coalizione sembra essere spaccata e ancora una volta l'Udc a non sapere quale strada intraprendere in questa frase preelettorale, ma l'ipotesi di Ernesto Sica, candidato sindaco, sembra essere definitivamente tramontata. Del partito per ora non c'è traccia, ma si vocifera che Bisogno possa star stretto al direttivo, tanto da spingersi altrove. Voci che potrebbero essere verificate già nei prossimi giorni, quando il quadro delle alleanze e della coalizione diventerà maggiormente nitido. Nel frattempo il centro-sinistra prova a conquistare anche la società civile e il mondo dell'associazionismo, ma con scarso successo, pur essendo ormai lanciati nella campagna elettorale. Resta da capire quindi il ruolo del Movimento 5 Stelle, sinistra italiana, è possibile che potrebbero presentarsi con un proprio candidato sindaco, nonostante l'appello lanciato tanto dal centro-sinistra quanto dal civico bisogno. Grazie. 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 Grazie.